Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi andremo a schiudere 25 Asian Egg Allora, nel video, in uno dei video precedenti, avevamo scambiato quello lì Nel frattempo che parlo iniziamo ad andare al saloon e iniziamo a darci da fare perché abbiamo ben 25 uova da schiudere Mi raccomando, ricordatevi come in ogni video, di scrivere sotto, secondo voi, quanti leggendari andremo a schiudere Cioè, andremo a trovare In uno degli ultimi video, devo dire che siamo stati molto fortunati La fortuna ci accompagnerà anche oggi? Lo scopriremo Se a un certo punto sentirete un po' di casino, potrebbe esserci l'interruzione di Leonardo che sta giocando nella stanza accanto, quindi non assicuro niente Io sto crepando dal caldo perché, ragazzi, è arrivata l'estate È arrivata ufficialmente l'estate, sì E io sto morendo E se ve lo state chiedendo, quando sto registrando questo video non ho ancora partorito E so, oggi è sabato 24 giugno, chissà quando guarderete questo video Mi sto portando un po' avanti perché, appunto, non voglio lasciarvi senza video sul canale E quindi Cosa sei? Primo uovo, dai Primo uovo Mi ricordo maleo, maleo, maleo si impalla In realtà neanche mi ricordo che cosa escono da queste uova Però va bene, andiamo avanti, ragazzi Allora, direi di fare come al solito Allora, andiamo a casa E ci sbrighiamo, però abbiamo detto che, solitamente, adesso facciamo così Prima ci facciamo tutte le docce qui a casa Poi dormiamo nella nursery Qua c'è un primo uovo che vuole fare la doccia Prego, signorino Non io Tu, quindi, doccia a casa Qualcuno lo facciamo dormire qui E vediamo se c'è qualche missione Niente, va bene, va Basta Non abbiamo iniziato bene, ragazzi Non abbiamo iniziato bene Allora, questo vuole fare anche la doccia Ma sapete cosa facciamo? Ho preso, per sbaglio, un bicchiere di acqua E quindi glielo daremo a lui Da qua chi esce? Il canguro, mi sembra Il canguro rosso Ma che è bevuto? E il drago Speriamo di trovare il drago Mi piacerebbe tanto averne un po' di più Ok, forse ce l'abbiamo fatta Niente Il tapiro Questo vuole anche la mela d'oro Anche la mela d'oro l'ho già preparata Quindi diamogli la mela d'oro Niente, secondo me il fatto che vuole dormire E non ha più la mela d'oro Vabbè, facciamolo dormire, dai Ecco l'invasione di campo, ragazzi Stiamo schiudendo le uova Basta che fai silenzio Ok Eh niente Il zibbellino qua, lo zibbetto Cosa abbiamo detto? Basta che fai silenzio No, e allora non giocare alla Playstation Qui c'è un altro che vuole fare la doccia Ragazzi, chiedo scusa, Leonardo è in stanza Quindi molto probabilmente sentirete parlare Sì, si sta schiudendo Guarda, si sta schiudendo Vediamo che animoletto esce Oh, vediamo se ci porta fortuna No, non ci hai portato fortuna, amore No Eh, c'era un uccellino Un uccellino Vediamo se c'è qualcun altro Chi è? Pure il telefono ci suona Quanto siamo fortunati oggi Vediamo quante altre interruzioni ci faranno in questo video di oggi Volevo fargli la doccia Cosa devi fare la doccia? Niente, questa doccia non ci porta fortuna Leonardo, pure la tv Forte C'è un altro uovo che vuole farsi la doccia Vediamo Dai, da questa doccia l'altra volta sono usciti due leggendari Adesso non voglio spoilerarvi il video l'altra volta Se non l'avete visto Andatelo a recuperare No, raga, solamente questi Niente, raga, cambiamo Perché questa doccia veramente è una maledizione Diamogli da bere Anche se però li farei Niente, allora, prendiamo quello della scuola E andiamo a scuola Io sto sudando Ho dovuto chiudere tutte le porte, tutte le finestre Perché fuori stanno facendo dei lavori E quindi Per avere un po' di silenzio Che non abbiamo Perché c'è pure la tv accesa Comunque Sto veramente sudando Quindi vedo l'ora di finire Di registrare questo video Per riaprire tutto In che stanza andiamo, raga? Andiamo Di qua si può andare? Sì Ah, andiamo qua Siedi di qua Fa finta che sei importante Salve, sì Mi dica Lei che cosa è Dentro questo uovo? Cosa si sente di essere? Cioè, è un pezzo forte Dovrebbe essere almeno Un leggendario Non meno di un ultra raro Ed è un ultra raro Che a noi non piace Però, vabbè Ci possiamo fare, ragazzi Oh, un altro che vuole andare a scuola Rimettiamolo qua Vuole andare a scuola? Sì, amore Oh, cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Vediamo cosa si schiude, amore Oh, no Un tigre Più o meno, sì No, non è una tigre È un cavallo Un cavallo? Cavallo Mmm, se lo dici tu Niente, raga Oggi mi sa che non è giornata Facciamo una cosa Andiamo direttamente A iniziare a farli bere Andi Ma dove siamo andati? Ma oggi proprio sto sbagliando Non ne sto indovinando una Dove voglio andare io Ma dove ho cliccato? Abbia me Ah, dove andare in animaletti Ce la posso fare Andiamo E iniziamo a farli bere Nella fontana Allora Questa fontana ci ha sempre fatto schiudere Effettivamente degli ultra rari Ma Basta Vediamo Chi altro vuole bere? Lui vuole bere Allora bevi Un altro che vuole bere? Ah, raga Ah, la maledizione Allora Ce n'è un altro che vuole bere Ed è l'ultimo Sì, è l'altro che vuole bere Sì, amore Un altro che vuole bere E poi andiamo A farli dormire Andiamo a farli dormire? Sì Oh, niente Basta Oggi Un anno di giornale Quindi iniziamo Iniziamo sempre da questo lettino E poi man mano ci andiamo spostando E' l'altro che vuole bere E' l'altro che vuole bere Ah, vabbè Almeno di questo sono contenta E' un ultra raro E di questi Oddio In realtà non è oltre Cosa c'è, amore? I giochini nuovi Ah, sì, amore I giochini nuovi Andiamo a farlo dormire qui Ma non puoi andare a dormire? Sì, sì L'ho fatto andare a dormire Vediamo cosa esce ora No, pensavo che era un canguro leggendario No, pensavo che era un orso E invece cos'è? Tipo una scimmietta Non lo so cos'è un tarsio Una specie di scimmia Una specie di scimmia Credo Credo Allora, questo vuole mangiare Questo vuole fare la doccia Questo vuole dormire Quindi proseguiamo avanti Con i lettini Ormai Vediamo se c'è un altro Li facciamo dormire in tutti i lettini Ce ne sarà uno fortunato Niente, raga, oggi Quest'altro vuole dormire E credo sia l'ultimo E poi proviamo ad andare al campeggio No, li facciamo mangiare E per ultimo lasciamo quello del campeggio Che vuole anche fare la doccia Sperando che sia orario giusto Sennò non mi sa che giorno Boh, nel frattempo che li facciamo mangiare Magari arriva di nuovo la notte Un altro ultra raro di questi Va bene, va bene Non mi lamento Più o meno Questo vuole mangiare Questo vuole anche dormire Ma lo facciamo bene nella VIP Sì, amore Andiamo nella VIP Nel frattempo ho lasciato questo fuori Magari usciva un'altra missione Che non sia la cascata Allora Vuole mangiare Iniziamo Prosciutto Prego signore C'è una mosca C'è una mosca Mi ha detto La red Non ti faccio niente Eh, bravo Non c'è nessuno Comunque che vuole fare Il campeggio Quindi penso che torneremo a casa A un certo punto Diamo Anche se è appena arrivata la missione di bere Però i papi torni Dai 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 Almeno uno No raga Seriamente Veramente 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 Vabbè Allora Andiamo Alla Cascata Se non mi sbaglio Se usciamo da qui Dovremmo essere abbastanza vicini E Sì E possiamo anche mettere la casa qua E gli facciamo poi la doccia Oppure facciamo una cosa Facciamo la doccia All'altro E poi Come ultima missione Lasciamo questa della cascata Che è una missione arancione Vediamo Oggi Sono triste ragazzi Non io Oggi Non è stata la nostra giornata Vediamo Il trattore mi sta prendendo pure a calci Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Oh ma scusate ma questa doccia è rotta comunque Niente E' aggiornata E' capito? Aggiornata Ok Prendiamo l'ultimo E andiamo alla cascata Vediamo Che cosa Troveremo Nell'ultimo Dai Su 25 Cavolo 24 Non sono stati leggendari Sul fenicottero Ci porterà fortuna Il fenicottero è un leggendario No? Quindi Vabbè Non possiamo andare più di qua Vieni qui Ma non fa la missione qui Ma come è possibile? Niente Dobbiamo stare qua Allora stiamo al centro di questa piscina Con come sfondo Il fenicottero Vai Cosa sei? Oh raga Niente Basta Che video Veramente triste Oggi Veramente triste Speriamo di essere più fortunati in altro Comunque Va bene Niente ragazzi E' andata così Se questo video vi è piaciuto Comunque Anzi Per supportarmi Perché siamo stati Estremamente sfortunati Lasciate un mi piace Commentate Mi raccomando sotto Fatemi sapere Quanti leggendari pensavate che uscivano E invece Non ne sono usciti Mi dispiace E se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao